Benvenuti in Competere Economia. In 5 minuti i principali fatti della settimana che dall'Italia e dall'estero ci entrano nelle tasche. E questa settimana la notizia principale viene dall'America. La società Cambridge Analytica avrebbe rubato a Facebook più di 50 milioni di profili ed è accusata di averli utilizzati impropriamente per influenzare gli elettori in vista delle presidenziali americane. E' scoppiata così la bufera su Facebook. Il suo creatore Mark Zuckerberg ha detto abbiamo sbagliato a dare fiducia a Cambridge Analytica. Zuckerberg dovrebbe essere ascoltato in questi giorni, ad ore si potrebbe dire, dalle autorità americane. Intanto in America si prepara una classation contro il gigante del web, mentre il titolo ha perso più del 5% in borsa. Ma veniamo ai fatti di casa nostra. Marinella, lo storico marchio napoletano, investe in Inghilterra e acquisisce il 10% dell'azienda inglese dove stampa le cravate da oltre mezzo secolo. La prestigiosa Adamley Textiles è una delle poche aziende al mondo che continua a stampare a mano le cravate. Artigianato artistico, religioso, innovativo e di servizio. Arrivano 30 milioni di euro. Lo ha stabilito l'aggiunta regionale della Campania con una delibera a favore di sviluppo Italia. La società in house della regione dovrà a breve pubblicare un avviso al quale le aziende potranno accedere per richiedere il finanziamento. E per le piccole e medie imprese che decidono di diventare più competitive sul mercato internazionale, l'aggiunta regionale ha approvato il piano strategico regionale per l'internazionalizzazione. La misura rientra nel POR Campania FESR 2014-2020. Le specifiche del bando le vedete in sovraimpressione. Rotazione di dirigenti e dipendenti regionali. Arriva il provvedimento firmato dall'assessore al Risorso Umane Sonia Palmeri in sintonia con il piano anticorruzione nazionale. Il provvedimento è stato approvato dall'aggiunta regionale della Campania. L'assessore Sonia Palmeri rappresenterà le regioni italiane nella consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. La commissione è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Primo incontro l'11 aprile. Ci faremo promotori di specifiche iniziative e proposte concrete, dice la Palmeri, per migliorare la legislazione in materia, al fine di realizzare un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo. Visite mediche. A pagamento o attraverso il Servizio Sanitario Nazionale? Secondo uno studio del CREA, ente governativo con competenze anche in settori socio-economici, la differenza di costi è veramente minima. Lo studio è stato realizzato in quattro regioni italiane, Lazio, Lombardia, Veneto e Campania. In alcuni casi, rivela lo studio, il costo del privato è più basso di quello garantito in Intramenia, in particolare poi in Campania. Per ottenere una visita medica specialistica bisogna attendere più di 90 giorni. Dal sud Italia crescono le esportazioni verso gli Stati Uniti d'America, un comparto che però potrebbe subire un brusco stop a seguito dei dazi voluti dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle merci estere. Il settore rappresenta il 13% del totale nazionale, che ammonta a 40,5 miliardi di euro di fatturato. Un livello stimato dagli analisti ancora troppo basso, ma che è in costante crescita, 61% in 10 anni. Le immatricolazioni di auto in Europa hanno registrato a febbraia un rialzo, ma il gruppo Fiat Chrysler è in calo. Questo autorizza i timori di un nuovo stop alla produzione nello stabilimento di Pomigliano in Campania. Lo denunciano i sindacati, preannunciando la possibilità di 4 giorni di cassa integrazione nel mese di aprile. Il gruppo FCA ha chiuso il mese di febbraio con un meno 4,4%, mentre Fiat con un meno 8,8%. Sempre dal mondo del lavoro crescono i soggetti che, pur avendo un'occupazione, sono a rischio povertà. Lo dicono i dati Eurostat del 2016. In Italia quasi un lavoratore su otto non riesce a coprire le spese con il proprio reddito e fa fatica ad arrivare a fine mese. La percentuale è in costante crescita dal 2010 e sono 4,5 milioni i lavoratori che vanno considerati nell'area di disagio sociale. Cambiamo argomento. Ristrutturazioni edilizie online, una guida realizzata dall'Agenzia delle Entrate. Lo strumento illustra quali sono gli interventi agevolabili, finanziabili e possono accedere i proprietari, ma anche i condomini. Una tassa del 3% per le industrie web che fatturano in un paese ma hanno sede legale in un'altra nazione. Il provvedimento è allo studio della Commissione europea e dovrebbe essere il primo passo per costringere i giganti del web a pagare le tasse in ogni paese dove oggettivamente lavorano. Parlando sempre di giganti, i gestori della telefonia mobile in Italia avevano deciso di aumentare le tariffe in vista della fatturazione a 30 giorni, ma l'antitrust ha ordinato la sospensione dell'aumento. Istruttoria in corso per difendere i consumatori e per ora tariffe bloccate, speriamo. In chiusura una notizia che gli amanti delle due ruote non potranno non apprezzare. Arriva un finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione delle piste ciclabili. Dal 3 aprile sarà possibile inviare richieste di ammissioni al bando comuni in pista sulla buona strada. Progetto del credito sportivo in collaborazione con Anci e FederCiclismo. Finanziamenti a tasso zero per 15 anni con mutui fino a 3 milioni di euro e estensibili a 6 milioni se le piste ciclabili riguardano più comuni. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, aggiornamenti sul sito Competele Journal. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.